A Cagliari pacifico accordo di non-aggressione che denuncia le moderate pretese del Milan di oggi. È mutato il gioco dei rossoneri, ci si dispone ad imbuto nel procedere verso il portiere avversario e sulle fasce laterali si correva molto lo scorso anno ed oggi non si è accorsa affatto, forse anche perché faceva molto caldo. Inoltre, senza bigonne, non c'è chi abbia la personalità sufficiente per assumere la direzione della manovra. Novellino, a forza di essere lasciato libero di occupare la posizione preferita, finisce per non averne una redditizia ed Antonelli si fa ottenere. Al Cagliari un pareggio stava bene, dopo essersi accorto che anche al Milan non dispiaceva. Se vogliamo, di notevole esistono soltanto alcune conversioni di Chiodi, un gol sbagliato clamorosamente per Cross di Maldera e infine c'è di notevole questa caduta di Maldera a stroncare un attacco rosso-nero a vecchia maniera dopo fragili tentativi di Chiodi e di Piras. Per il resto, basta. Grazie. 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 Grazie.